No al piano di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, la cosiddetta strada dei parchi per complessivi 5,7 miliardi di euro, incentrato su nuove gallerie, con il cambiamento sensibile dell'attuale tratta e con l'eliminazione dei viadotti, sì ad interventi antisismici su questi ultimi e in genere sul percorso esistente. È questa, in sintesi, la posizione adottata dal Consiglio regionale con un documento votato a maggioranza del centro-sinistra nella seduta straordinaria dedicata al progetto di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Il Consiglio è dato mandato al Presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso e dell'Esecutivo di promuovere concrete azioni politiche nei confronti del Governo nazionale, da condurre sinergicamente alle attività dei parlamentari abruzzesi, affinché la società strada dei parchi S.p.A. predisponga un piano di interventi atti a garantire l'advocamento antisismico dei viadotti esistenti nell'attuale tracciato delle autostrade A24 e A25, secondo quanto previsto dalla legge 228-2012. Nel documento si impegna il Presidente D'Alfonso anche ad aprire un serrato confronto con il Governo e la società concessionaria strada dei parchi per la verifica puntuale dell'assolvimento degli obblighi previsti nella Convenzione risalente al 2001 e ad ottenere importanti investimenti per lo sviluppo e l'amodernamento della linea ferrovaria Pescara-Sulmona-Roma, risalente al 1880, per portare i tempi di percorrenza tra Roma e Pescara sotto le due ore per affermare definitivamente l'aeroporto d'Abruzzo e nel contempo rendere competitivo il trasporto mare-ferro-gomma tra il porto di Ortona e quello di Civitavecchia. Due documenti presentati dalle opposizioni di centrodestra e del Movimento 5 Stelle sono stati bocciati e proprio i pentastellati dubitano invece che la maggioranza abbia cambiato idea. La giunta d'Alfonso continua di fatto, spiega il capogruppo Sara Marcozzi ad appoggiare il progetto di un privato che impiega 6,7 miliardi di soldi pubblici per accorciare l'autostrada A24 e A25 di pochi minuti.